Il governo ci dice che avremo un deficit quest'anno di meno 8%, il debito pubblico salirà al 155% del PIL e il deficit 10,4%. Quindi questi sono numeri che ci devono solo spaventare. Ti sembra che questo governo però si stia preparando per dare le risposte che elencava prima sia Cacciari che anche Beppe Severnini? Ci sta provando Lilli, ci sta provando a partire da questa difficile trattativa che in Europa non è affatto conclusa perché in questo ha ragione Massimo Cacciari, bisogna ancora vedere Angela Merkel ha detto che quel fondo va finanziato e ci sono ancora differenze dividute su come va finanziato questo recovery fund. Ci sta provando cercando di tenere unita la maggioranza e cercando di far capire anche ai più recalcitranti che con l'Europa bisogna trattare e non si può dire così non ci va bene andiamo via perché chiaramente ci sono due visioni opposte all'interno del governo. Sta facendo il possibile con il nemico di sempre Lilli che è la burocrazia italiana che in molti casi non è riuscita a superare. Lo vediamo adesso, lo abbiamo visto per il decreto marzo, per i 600 euro che tardavano ad arrivare, lo vediamo adesso su questo decreto aprile che arriverà a maggio e sul quale sta molto battagliando la maggioranza ma sul quale ci sono anche degli impedimenti proprio tecnici. E' molto difficile, i numeri che tu hai elencato sono numeri che io nella mia vita lavorativa non ricordo e parlo di un deficit così alto, di un debito così alto e di un PIL che scende così. Io in vent'anni non ho mai visto questi numeri, non li ha mai visti neanche chi è al governo adesso, anche se ha avuto altre responsabilità istituzionali. Nessuno li dice a cacciare, nessuno li ha visti questi numeri. Esatto, e quindi ci sta provando in ogni modo, è importante quello che sta cercando di fare, tenere unita la maggioranza perché senza quello non si va davvero da nessuna parte, però non è detto che sia così unita perché se poi a quel meccanismo di stabilità dobbiamo aderire, non tutti i 5 Stelle sono ancora convinti di farlo.